Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo sempre al capitolo sesto di Luca al versetto sesto e continuiamo il Vangelo che abbiamo letto sabato da lì. Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scrive ai farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per trovare di che accusarlo. Se noi leggessimo tutti i Vangeli che hanno a che fare col sabato hanno a che fare con la norma che viene prima delle persone mamma mia ne faremo un bel po' e può succedere anche a noi e può succedere anche a noi e come è successo nei duemila anni di storia della chiesa ecco che che le norme vengano prima delle persone e che in nome delle norme si facciano delle cose incredibili incredibilmente crudeli e cattive insomma in nome delle norme o nome dei valori o in nome degli ideali talvolta si possono compiere degli scempi. Noi l'abbiamo fatto nella nostra storia ma non guardiamo solo la nostra storia guardiamo adesso ad oggi quando quando abbiamo questa questo rischio ecco anche nelle nostre comunità di insomma di guardare prima ai cavilli e poi alle persone e in questo modo ci chiudiamo diventiamo una setta difficilmente siamo un luogo accogliente ospitale per gli esseri umani ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati e mettiti qui in mezzo si alzò e si mise in mezzo poi Gesù disse loro Gesù che cosa mette in mezzo lui al centro Gesù non mette il sabato seppure ovviamente il sabato ha un grandissimo valore il giorno del riposo, il giorno di Dio, il giorno della sinagoga, il giorno della lettura della parola, il giorno per noi la domenica dell'eucarestia cioè la norma è a nostro favore e per la vita non per la morte ma Gesù mette sempre nel mezzo la persona poi disse loro proprio preciso e trasparente come non mai domando a voi in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male salvare una vita o sopprimerla duro e chiaro e guardandoli tutti intorno immaginate questo sguardo di Gesù che guarda tutti questi qua disse all'uomo tendi la tua mano egli lo fece scusate che c'ho una chiamata egli lo fece, la sua mano fu guarita ma essi fuori di sé dalla collera dalla collera, capite? un uomo è guarito e loro sono presi dalla collera si misero a discutere tra loro su come su quello che avrebbero potuto fare a Gesù beh, è incredibile è sempre meglio fare del bene per Gesù punto in qualsiasi situazione, in qualsiasi ambiente in qualsiasi orario, in qualsiasi giorno qualsiasi cosa si stia facendo anche se facessimo, se fossimo nella messa se fossimo lì a pregare se fossimo in adorazione è sempre meglio fare del bene a una persona ancora al telefono che non girassi dall'altra parte le cose belle della giornata di ieri abbiamo concluso i giochi di settembre una bella giornata con la messa, la premiazione e poi i volontari che sono stati bravissimi che hanno fatto la porchetta e le patate per tutti e insomma si conclude veramente l'estate per noi con questa settimana con tanta gratitudine sempre quando si conclude c'è anche un po' di nostalgia perché si è conclusa una grande grande estate e rendo lode a Dio per questo e rendete voi anche grazie a Dio per tutto quello che è accaduto e per tutte le persone che si occupano di bambini e di ragazzi gratuitamente Ale, buona giornata a tutti voi